ed eccoci a tutti buonasera ben trovati con questo appuntamento di formazione che questo pomeriggio vede la partecipazione di enrico lanati di investire punto biz ciao enrico buonasera buongiorno a tutti eccoci ben trovati come stai tutto bene ricco insomma chiusura di giornata intensa per i mercati o abbastanza fiacca smussata dai io tutto sommato è stata una giornata tranquilla io devo dire la verità ho monitorato in queste ultime ore euro dollaro perché è interessante nel senso che abbiamo visto dei un rafforzamento del dollaro molto importante nelle ultime settimane e questa cosa devo dire la verità che mi ha un po colpito poi quando andremo a vedere le strategie che stiamo implementando questa è una sulle quali diciamo una delle strategie sulle quali non abbiamo avuto ragione ma secondo me è importante far vedere anche se si sbaglia perché si sbaglia quali sono quali erano le idee insomma che c'erano alla base di una determinata strategia esatto vabbè ed a enrico lo sappiamo tutti comunque nessun trader guadagna sempre mai al cento per cento cioè non saremo magari tutti qui insieme a fare un webinar e comunque il trading è fatto sia da giorni di guadagno e da giornate di guadagno e da posizione guadagno che da posizione in ferita l'importante a nostro avviso secondo me è farlo in modo consapevole quindi con adeguata formazione informazione ma soprattutto ovviamente entrare e operare in modo consapevole e quindi proprio parlando di consapevolezza proprio parlando di formazione ricco noi abbiamo voluto lanciare per questo secondo anno e vi ringraziamo anche per aver partecipato a questa seconda edizione abbiamo voluto appunto rilanciare la certificate academy che ricorda a tutti è una piattaforma virtuale creata in collaborazione con trader link con cui è possibile negoziare durante le giornate di negoziazione quindi durante la giornata di borsa aperta insomma i certificati strutturati da unicredit e quotati sul mercato e sui segmenti certi di euro dell'ex e sedex di borsa italiana e vengo subito da te allora l'ultimo messaggio e poi non tedio più niente più nessuno insomma ti lascio ti lascio parlare ricorda tutti che il webinar registrato e sarà possibile rivederlo nella pagina relativa alla certificate academy appunto una pagina di webinar e formazione vedete ci sono già le varie registrazioni appunto sul sito della della certificate academy poi aggiungeremo a partire da domani anche questa con con enrico oppure anche sul nostro sito che appunto investimenti punto nei credit punti sezione one markets webinar dicevo vengo da te e in realtà farei da te con la prima domanda enrico che è appunto un po si ricollega l'iniziativa è una domanda che ho fatto un po a tutti gli amici con cui abbiamo già avuto dei webinar che cosa ne pensi di un'iniziativa del genere ritiene un'iniziativa utile e eventualmente indicaci dei pro e dei contro magari che possono essere eventualmente legati a questa iniziativa allora sicuramente l'iniziativa è molto utile soprattutto per i neofiti che si avvicinano a questo tipo di prodotti perché potendo operare con soldi virtuali c'è un notevole vantaggio soprattutto a livello diciamo di esperienza che può essere fatta perché la componente emotiva è vero se operi con soldi veri ce l'hai ma qui secondo me l'obiettivo è quello di portare magari persone che già fanno trading o che già fanno investimenti su prodotti diversi andare a portarli sui certificati e sappiamo che ci sono due grandi famiglie di certificati ci sono i certificati a leva e ci sono i certificati da investimento ecco secondo me un modo molto molto utile è proprio quello di creare delle watch list quindi comprare questi prodotti in maniera virtuale e così tutti i neofiti possono farsi un'idea di come determinati prodotti vanno apprezzare di come si vanno a muovere in realtà ti dico se proprio devo dare la mia visione io quando ho guardato insomma i prodotti sui quali potevo fare trading mi sono reso conto di una cosa che questa competizione ha una durata di tempo limitata e alcuni prodotti soprattutto quelli da investimento che a me non faccio non è un mistero mi piacciono sicuramente di più rispetto a quelli diciamo più da trading in realtà hanno orizzonti temporali molto lunghi e quindi per esempio io qualche giorno fa ho acquistato dei prodotti su piano come sottostante beyond meet beyond meet ha ritracciato adesso avremo delle cedole ma sono comunque prodotti che hanno una scadenza che magari va nel 2022 2023 2024 quindi in realtà l'idea all'interno della competizione non riesce a svilupparla perché poi la competizione giro di un mese si chiude e quindi forse sarebbe da circoscrivere ai prodotti di trading non so se ho passato il concetto assolutamente passa hai passato passato molto bene il concetto e diciamo che ho notato una costante in questi giorni e in questi appuntamenti di formazione che è quella che diversi relatori e diversi operatori tu come pietro di lorenzo e come anche stefano fanton vi siete un po concentrati e siete andati tutti a pescare beyond meet che è un sottostante di cui ovviamente abbiamo sentito parlare molto in queste ultime giornate e quello che ti volevo chiedere questo hai usato una logica di fondo nella costruzione del tuo portafoglio o meglio con che razio l'hai fatto no allora partiamo da beyond meet c'è perché siamo andati a inserire beyond meet allora è uscita il problema del timing secondo me quando si va a fare operatività sui certificati è molto importante nel senso che è evidente che lo stesso prodotto che se la trimestrale diciamo di un'azienda all'interno di un basket o anche su un cash collect su azione singola ha un movimento importante e nelle ultime settimane i movimenti importanti li abbiamo visti su tesla che si è mossa parecchio li abbiamo visti su beyond meet è uscita questa trimestrale che è stata a parere degli analisti per quella che diciamo analisi analisti non positiva il titolo ha perso tantissimo mi sembra che il giorno dopo la trimestrale in pre market faceva meno 17 per cento o giù di lì è evidente che se tu hai una visione rialzista sul settore sul titolo in generale questa è un'opportunità perché io dico sempre che quando noi andiamo a comprare un certificato da investimento no è vero le barriere vanno bene sono importanti bisogna guardarle ma non è che io devo comprare un certo e questo secondo me a livello di education importanti non è che devo andare a comprare un certificato perché spero che non venga colpita la barriera cioè è vero la barriera mi dà una protezione ma io voglio comprare un qualcosa che penso tutto sommato potrebbe apprezzarsi quindi non voglio andare a prendere un titolo che secondo me è destinato a fare malissimo perché tanto magari non rompe la barriera è vero che dall'altro lato se tu hai una aspettativa particolarmente rialzista su un titolo forse a quel punto vai ad acquistare l'azione secondo me il certificato è un ibrido nel senso che è vero che probabilmente se vai a prendere il certificato ottieni un rendimento inferiore rispetto a quello che avresti potuto ottenere sull'azione che fa piuttosto bene dall'altro lato però potresti anche non aver ragione e quindi se un titolo per esempio mai mi sarei aspettato che alibaba ritracciasse così tanto nell'ultimo anno anno e mezzo ecco un titolo come alibaba sul quale si poteva tranquillamente essere rialzisti poi di fatto nell'ultimo anno ci ha dimostrato come è andato male e ho notato che voi avete diversi prodotti su alibaba tra l'altro ne ho inserito uno oggi che mi ha incuriosito parecchio e vorrei chiedere il tuo parere tecnico proprio su questo certificato se vuoi ti do l'ISING così lo facciamo vedere ecco fino ad ora sto facendo io le domande ora me la poni tu va bene dammi il codice ISING così lo verifichiamo lo commentiamo così lo commentiamo insieme io l'ho inserito in portafoglio adesso poi ci fanno anche una domanda che è questa che te la pongo subito nel frattempo che mi dai l'ISING parlando appunto di mercati e di mercati di tracciamento e quant'altro ci chiedono i certificati dovrebbero andare benissimo in mercato laterale giusto assoluta partiamo dal concetto che dipende che prodotto stiamo prendendo perché se prendiamo un benchmark sul laterale pareggia o scendiamo di quelle che sono le commissioni però su prodotti come bonus cap cash collector eccetera 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 sicuramente sono sono dei prodotti che vanno bene in un mercato laterale vanno bene in un mercato anche moderatamente ribassista finché non vengono rotte le barriere grossi problemi non ce ne sono poi molto spesso appunto vengono fatti prodotti con anche effetto memoria quindi spesso anche se viene rotta la barriera e poi recuperano in qualche modo si possono ottenere dei premi un'altra cosa visto che siamo verso la fine dell'anno unicredit quota sia appunto i certificati con maxi coupon per recuperare le minusvalenze ma il certificato secondo me è interessante a prescindere dalle minusvalenze e a prescindere dall'operatività sui maxi coupon per chi magari vuole fare uno switch anche in corso durante il corso dell'anno tra magari un investimento azionario sul quale è stata generata una minusvalenza e vuole comunque avere un flusso cedolare costante quindi diciamo che sono prodotti che generando redditi diversi vanno a ottimizzare il portafoglio spesso sembra una banalità ma che ne so su un determinato certificato che magari ha un rendimento lineare con l'azione perché magari è stato quotato molto tempo fa eccetera eccetera può essere attrattivo andare ad acquistare un certificato piuttosto che sottostante stesso correggimi se sbaglio assolutamente sì assolutamente se lo divido e tra l'altro eh Enrico dato che ne hai citato l'hai citato io ricordo anche questo che per i maxi coupon eh è un po sembra un po ci ci rimpagliamo ci buttiamo la palla l'uno con l'altro e ehm noi abbiamo eh emesso una serie di maxi coupon eh a luglio con pagamento cedola a novembre eh che domani il diciotto undici appunto 2021 rileveranno le barriere cioè i cui sottostanti eh per i cui sottostanti verrà rilevato il valore di riferimento e si verificherà se daranno diritto o meno al pagamento della cedola quindi chi fosse interessato o chi avesse un obiettivo di recupero minus ok può andando a consultare quelle che sono nel nostro filtro prodotti i eh cash collect maxi eh autocollable maxi cedola quelli che sono i prodotti che magari quotano ancora in modo distante dalla cedola in modo da garantire da permettere di incassare un certo rendimento ed eventualmente consultare se ha questo obiettivo di incasso cedolare andare a consultare o valutare l'acquisto di uno di questi prodotti ovviamente ricordiamo non è un'indicazione stiamo semplicemente dicendo domani c'è la data di rilevazione qualora vi interessi questo prodotto può essere utilizzato a e può fare al caso vostro detto questo mi volevi dare un icing giusto mi vuole chiedere cosa ne pensa ok vediamo perché no e ti spiego perché perché sono rimasto stupito da questa cosa perché allora ho detto voglio inserire qualche cosa di di interessante all'interno appunto del del portafoglio quindi sono a vedere un po di prodotti no e ho detto alibaba è un titolo che è sceso ma secondo me ha delle delle potenzialità eccetera eccetera ha fatto tutta una serie di ragionamenti l'isim nel frattempo è di e 0 0 0 h b 0 3 q r 2 tra l'altro sono andato a vedere poi sul siamo dove si vanno a vedere gli scambi io utilizzo non voglio fare pubblicità una piattaforma di trading dove vedi appunto i vari scambi e ho visto che oggi ha scambiato un bel po di pezzi no ecco questo prodotto io lo trovo interessante al netto che il rendimento non è pazzesco perché stiamo parlando comunque di una cedola se facciamo vedere proprio le caratteristiche del prodotto è una cedola mensile dello 0 55 stiamo parlando di un 6 e qualcosa per cento all'anno su un titolo che comunque è volatile però la cosa che mi ha colpito e vorrei il tuo parere in questo momento sottostante si trova 160 e esatto 163 dollari il fixing iniziale a 150 vedi quindi si trova abbastanza distante dal fixing iniziale ok il prezzo però è ancora 101 ora io non so se vedo autocallable no esatto ok quindi questo prodotto non lo richiamate giusto no esatto offre un 6 per cento abbastanza tranquillo in questo momento giusto 0 55 per 12 sì e secondo me è un prodotto interessante perché viene acquistato leggermente sopra la pari e offre un un discreto un discreto rendimento secondo me è un modo per parcheggiare della liquidità che che avanza su un prodotto che secondo me ha una rischiosità in questo momento più bassa di quello che che potremmo pensare anche perché alibaba come sapete ha perso tanto nel nell'ultimo periodo probabilmente è stato è stato prezzato bene e tra l'altro appunto la scadenza è tra tre anni quindi diciamo che hai te nell'ottica della gara purtroppo non non potrà dare performance perché la gara che stiamo facendo la competition dura qualche mese però secondo me un prodotto interessante oggi ho visto che ha scambiato diversi volumi quindi questo era un prodotto che secondo me si può mettere sotto la lente per chi vuole ottenere magari dei dei rendimenti non esagerati perché non stiamo parlando i rendimenti del 20 30 per cento cose tipo cash collect worst of contest da i miei o cose di questo tipo ecco questo qua io a me molte volte mi chiede ma come fanno a fare i maxi coupon come fanno a fare determinati prodotti ecco io voglio spiegare appunto a chi ci segue che non è che ci sono delle magie sostanzialmente quando viene fatto un maxi coupon piuttosto che un altro certificato l'emittente considera tutta una serie di cose che sono volatilità eccetera eccetera se vi danno un maxi coupon all'inizio probabilmente vi daranno delle cedole più basse nei mesi successivi nei trimestri successivi allo stesso modo se su un prodotto abbiamo una forte volatilità è normale che tesla darà sempre e comunque dei premi superiori a quelli di enel perché perché enel e tesla hanno due storie diverse nel senso che tesla una volatilità molto molto forte questo si riflette nel prezzo delle opzioni e così via e quindi è normale che un prodotto dove magari oppure un worst of dove c'è dentro un titolo particolarmente debole è successo in passato appunto di vedere delle costruzioni con dei diciamo delle strutture con dei titoli molto forti e poi all'interno del paniere uno un po più deboluccio per dare i rendimenti alla fine la coperta è quella quindi se volete ottenere rendimento purtroppo dovete prendere una parte di rischio e viceversa quello che c'è da dire è che il certificato in questo particolare momento storico secondo me è interessante perché perché tutti dicono che i rendimenti i titoli sono sopravvalutati sono sui massimi ed è molto rischioso andare ad acquistare titoli e io su questo concordo secondo me il mercato azionario sta salendo perché perché non hai alternative e quindi le persone stanno comunque investendo sul mercato azionario la verità è che non è che può salire per sempre quindi prima o poi uno storno a correzione o qualcosa ci sarà ecco quindi il certificato è quello strumento che se sale e se va in auto call piuttosto che se il mio rendimento inferiore a quello che avrei ottenuto sull'azione tutto sommato non va male perché l'investitore se guadagna un po di meno ma comunque guadagna è contento io ho avuto esperienze in passato diciamo nell'ambito dell'asset management e se un cliente aveva messo 100 euro e se ne trovava 100 euro e 50 centesimi era contento se si trovava 99 euro era un dramma incredibile e se ci pensi poi per carità il mercato poteva fare poteva aver fatto più cento per cento ma a lui stra cento un euro ha guadagnato un euro questo era un po quello che succedeva quindi normalmente anche se guadagniamo un po di meno andando a prendere questi prodotti c'è una forma di tutela secondo me importante le barriere spesso pesato meno 30 meno 40 poi ovviamente ci sono dei certificati più difensivi che hanno barriere addirittura al 50 per cento sui sui vari fixing ovviamente li poi cala il rendimento quindi al netto di questa di questa digressione io vorrei rispondere a delle domande se ce ne sono e no allora per il momento non abbiamo ulteriori domande ci chiedevano in realtà ne abbiamo una che la seguente è una domanda generica e poi passerei magari eventualmente all'analisi del tuo portafoglio il prodotto che tu mi hai presentato è un prodotto questo qui è un fixed cash collect interessante quindi ricordiamo a tutti quali sono le caratteristiche magari tra gli amici che ci seguono c'è qualcuno che è interessato appunto al prodotto non specifico poi passiamo alla domanda allora un fixed cash collect quindi significa che è un cash collect quindi paga delle cedole incondizionate quindi fixed indipendentemente dall'andamento del sottostante pagando delle cedole incondizionate ok non è come al solito il meccanismo non prevede un recall anticipato dall'emittente quindi per tutti i nostri fixed cash collect non è previsto il recall anticipato ha una maturity a ottobre 2024 quindi discretamente lunga non con non lunghissima però diciamo una via di mezzo perché ci sono anche cash collect che hanno una maturity più ampia è un po meno resiliente alla variazione di prezzo del sottostante infatti come ci faceva notare enrico giustamente prima al momento il sottostante si trova a 163 32 e il cash collect si trova 101 e 05 quindi non vedrete mai dei grandi scossioni di prezzo sul 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 certificato un prodotto sicuramente interessante con una barriera discretamente profonda possa 70 per cento rispetto al fixing iniziale detto questo ricordo ancora che i cash che i certificati in realtà hanno un payoff asimmetrico che permette di guadagnare in tre situazioni lateralità moderato rialzo moderato ribasso ovviamente questi sono i prodotti a capitale condizionalmente protetto poi ci sono altri prodotti diversi come cover ed war piuttosto che prodotti alleva in realtà sono più specifici per i trend rialzisti o ribassisti allora in quel caso una lateralità in realtà non giova anzi giova negativamente al al titolo anziché positivamente la domanda che ci fanno è questa e la domanda che ci fanno è questa e poi passiamo al portafoglio Enrico su un cash collecting forte perdita come si può agire cioè ai dei delle indicazioni Enrico insomma come di prodotto sì allora innanzitutto bisogna capire è in forte perdita perché perché ha già rotto la barriera quanto manca la scadenza cioè le cose che devono essere considerate sono diverse faccio un esempio io ho comprato qualche tempo fa un certificato che era è il caso inverso nel senso che quotava molto poco aveva tante cedole a memoria e nella speranza che in qualche modo il mercato risalisse ho detto tanto alla peggio comunque l'ho comprato a poco se va bene faccio strike di tutti i premi che si sono che si è per fortuna appunto il mercato è risalito e sono riuscito a recuperare tutte quelle 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 cedole che non erano state pagate in precedenza ovviamente se noi entriamo su un prodotto questo prodotto ci viene contro e andiamo a rompere la barriera dobbiamo essere consapevoli del fatto che c'è un rischio potenziale di perdere capitale ecco lì secondo me quello che conta è da primo quanto tempo per recuperare quindi qual è la scadenza cioè non mi farei non mi facerei la testa se fossi entrato su un prodotto su beyond meet prima di questa trimestrale perché ce ne saranno altre per intenderci in secondo luogo invece quello che che mi importa è la view sul sottostante per questo dicevo secondo me dobbiamo scegliere dei sottostanti che compraremmo comunque no a prescindere dalla protezione perché comunque di fatto questi sono prodotti di matrice equiti quindi di fatto un'esposizione sull'equity ce l'hai come fare certo uno può limitare le perdite su questo molti non non ci pensano ma i prodotti sono negoziati in continua quindi nel momento in cui io voglio uscire da un certificato troveremo diciamo l'emittente potremmo rivendere il nostro il nostro certificato sul sul mercato e quindi diciamo uno può sempre limitare le perdite secondo me il piano di tre ninguno però avrebbe dovuto farlo prima nel senso dovrebbe essersi posto prima il tema poi ovviamente se tu becchi i casi sfortunati come wire card eccetera lì ci puoi fare poco e allora a quel punto vabbè io in quel caso dico è andata male quello un buon un buon un buon caso secondo me un bel buon caso scuola è quello della diversificazione cioè secondo me è un modo per tutelarsi da un certificato che va tanto male visto che i tagli sono piccoli voi i vostri tagli sono normalmente di 100 euro esatto io ho la possibilità di poter andare su diversi prodotti quindi quello che consiglio è un certificato va male pace se avevo l'avrò comprato per qualche ragione quindi lo posso comunque mantenere in portafoglio normalmente se ne vai a comprare diversi quindi magari mettendoci meno soldi ma su più idee di investimento può può questa essere una soluzione perché non è che beccherai sempre il caso sfortunato l'azienda che è prossima al fallimento cose di questo tipo quindi secondo me quindi un buon modo è diversificare per struttura per area geografica e per per prodotto quindi magari andare a fare un portafoglio non solo di cash collect ma magari andare a inserire dei bonus cap andare a inserire magari dei benchmark ho visto che avete fatto dei benchmark tematici molto interessanti su diversi 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 temi innovativi quindi per perché non comprare un benchmark oggi come oggi all'interno di un portafoglio diversificato ci può stare tranquillamente non hai la protezione vogliamo vedere io direi senti allora facciamo così perché può essere anche vedendo andiamo a vedere il tuo portafoglio e faccio vedere anche a tutti i primi passato portafoglio vediamo dove poter trovare i benchmark magari chi è interessato a vederli a consultare benchmark sono cinque su mega trend sul nostro sito scorrendo appunto il banner vengono fuori appunto le investment stories relative benchmark open end e sono cinque storie e cinque appunto prodotti su sostenibilità idrogeno biotecnologie poi abbiamo green tech e e commerce brick e commerce sono prodotti senza protezione del capitale che seguono l'andamento sottostante però volendo riagganciarci a quello che era la domanda del nostro amico io direi che possiamo magari a passare ad analizzare il tuo portafoglio dimmi se vuoi che ti passi lo schermo oppure vuoi che faccia tutto io lo posso prendere tranquillamente lo schermo te lo mando a brevissimo perché in realtà oltre la diversificazione quant'altro si può pensare ad uno switch cioè se il prodotto è di breve scadenza quindi ipotesi prodotto è messo male ok facciamo delle ipotesi ovviamente questo sono delle ipotesi poi bisogna valutare attentamente ognuno deve valutare attentamente la propria posizione se il prodotto è messo proprio male perché magari i sottostanti sono troppo distanti dalla barriera ok ha una scadenza molto prossima si potrebbe valutare la possibilità di vendere il prodotto stesso e di entrare magari su un nuovo prodotto come per ipotesi un cash collect maxi cedola piuttosto un cash collect che paga dei premi trimestrali consistenti oppure anche fix di cash collect poi ovviamente queste è una idea che noi diamo delle indicazioni però il tutto deve essere tarato sulla propria posizione di portafoglio e sulla propria situazione personale eccoti ora vediamo il tuo portafoglietto esatto sì in realtà appunto noi non abbiamo diciamo questo è stato fatto come ufficio studi quindi da parte mia e dei colleghi che lavorano con noi avevamo provato come idea a cercare di forzare un pochettino la mano quindi in realtà a prescindere dai certificati da investimento che sostanzialmente sono in pareggio alcuni li ho acquistati oggi e dopo li li vediamo vedete c'è beyond meet che ho inserito su diversi prodotti in realtà abbiamo due grosse posizioni in perdita che sono su diversi strike su euro dollaro e sul dax i numeri fanno un po' paura perché vedi si sono sono delle perdite rilevanti la verità è che sono tarati su un capitale di 500 mila euro e quindi abbiamo potuto anche osare di più se ragioniamo in termini percentuali sul portafoglio è molto di meno e soprattutto questi prodotti turbo dopo li analizziamo bene sono prodotti che si muovono parecchio in termini di valore soprattutto se si vanno a scegliere quelli un po' più vicino ai livelli di barriera quindi che hanno una leva più elevata diciamo noi nell'ottica della competizione abbiamo detto proviamo ad accelerare un pochettino ad avere un po' di boost e abbiamo sbagliato però possiamo spiegare perché abbiamo fatto questo tipo di operatività invece il primo su Alibaba è quello di cui abbiamo parlato in precedenza allora io prendo qui il nostro grafico su euro dollaro allora euro dollaro perché lo abbiamo scelto scusate che ho sbagliato schiacciare lo recupero qui sostanzialmente euro dollaro lo abbiamo scelto per questa ragione stiamo arrivando da un movimento ribassista piuttosto importante e uno mi direbbe perché ti sei andato a mettere contro trend sostanzialmente l'idea è questa io ritengo che gran parte delle news che dovevano uscire su euro dollaro siano già uscite ovvero i temi legati al tapering i temi legati agli eventuali aumenti dei tassi eccetera eccetera quindi quella che è l'idea che mi sono fatto che per carità al momento è sbagliata perché non c'è dubbio che l'operazione stia andando male è questa che gran parte appunto delle il movimento da 1,22 fino a 1,13 c'è stato che è un movimento di nove figure in questo momento quello che potrebbe succedere è una ripartenza il classico buy on the rumor sell on the news che in questo caso è al contrario nel senso che è stato sell on the rumor quindi durante i vari rumor hanno venduto euro dollaro quindi hanno comprato dollari giustamente e quindi questo secondo me è un movimento corretto secondo me oramai tutte le informazioni che abbiamo avuto sul mercato sono informazioni come dire sono state scontate secondo me da qui potrebbe esserci una ripartenza oggi vedete che sostanzialmente siamo in parità questo è un grafico che stiamo vedendo giornaliero ma possiamo scendere però quello che volevo farvi vedere è che sul giornaliero abbiamo avuto questo spike abbiamo avuto questo movimento ma il mercato sembra voler invertire la rotta ecco quindi a mio avviso da qui ci potrebbe essere una ripartenza perché dico questo perché secondo me le banche centrali non hanno o meglio la fed che normalmente più proattiva non ha interesse in questa fase ad avere un dollaro troppo forte quindi secondo me in qualche modo un rimbalzo fino a dare 1 e 14 non andare 1 e 15 ci potrebbe stare qui diciamo noi abbiamo provato questo tipo di operazione al momento ci sta andando male diciamo questa è la prima strategia se voi possiamo andare a vedere anche quanto stiamo facendo sul dax dove però appunto perdiamo un pochettino di meno però è bello far vedere proprio in totale trasparenza le idee di trading che sono sì allora diciamo enrico che fondamentalmente è una piattaforma del genere è una piattaforma virtuale dove si opera con dei soldi virtuali permette di osare maggior di osare quel pelino in più ovviamente il tutto però è come poi viene conciliato con il nostro obiettivo e sebbene le tue posizioni siano in perdita o meglio le vostre posizioni siano in perdita comunque sono giustificate da una razza di fondo cioè tu ci hai spiegato il motivo per cui sei entrato long sull'euro dollaro cioè magari hai anticipato troppo il timing però l'idea di fondo è corretta non avete aperto una posizione così sul primo prodotto che vi interessava quindi magari il timing non era proprio preciso ma la razza di fondo è corretta tu mi dici e mi aspetto che la banca centrale non vuole avere un dollaro così forte tale per cui il rapporto si riprenderà tale per cui voglio amplificare performance con un turbo open and esatto la strategia più o meno era quella in realtà il la gara dura un mese quindi recuperiamo nel giro di un mese ma poi in realtà ti dico la verità questi prodotti sono strutturati in modo tale che così come velocemente perdi velocemente poi recuperi quindi basta un movimento dell'un per cento un e mezzo per cento diventano tutti positivi quindi in realtà non è che stiamo parlando di non abbiamo comprato un eventi anche perché l'ha iniziata dieci giorni fa quindi di fatto non siamo nemmeno così più così tanto preoccupati evidente che fa un po specie vederli così la verità che non sono nemmeno soldi veri quindi è normale che ci sia questa questa situazione sul dax in realtà quale razzo qual era razzo era siamo arrivati sui massimi proviamo visto che si sale con le scale si scende con l'ascensore normalmente si dice questo in borsa proviamo a sfruttare un prodotto a leva variabile come il turbo short sul dax per vedere se arriva un piccolo ritracciamento visto che il dax si trova sui massimi storici quindi in buona sostanza noi siamo andati a vendere indicativamente qui sui massimi storici dicendo è vero il trend è rialzista è vero tutto quanto ma se ritraccia molto spesso quando abbiamo i ritracciamenti sono ritracciamenti più importanti quindi se va bene facciamo un profitto molto più importante rispetto a quello che abbiamo fatto è evidente che questo è un tipo di operatività infinitamente più rischioso rispetto a quello che abbiamo visto sui prodotti da investimento quindi prodotti a leva secondo me sono adatti per chi magari ha un po più di dimestichezza sono più prodotti da trading sono meno indicati per per quell'investitore che magari ha come dire che magari vuole rischiare di meno volevo farti vedere una cosa tra i prodotti che invece abbiamo messo da investimento c'è questo che secondo me è carino nel senso che si tratta proviamo a velo ma lo vediamo sul sito dove si vede meglio no così almeno abbiamo anche più più dati eccolo qua pagina prodotto ecco qui secondo me c'è un tema c'è un rischio ma vorrei far notare a chi ci ascolta questa cosa no questi sono prodotti questo è su beyond meet in questo momento il prodotto quota circa 73 74 c'è in realtà adesso forse chiusa però diciamo che più o meno quota tra i 73 74 questi secondo me sono interessanti per una serie di ragioni ovvero la prima quando vai a comprare un prodotto di questo tipo hai i premi sono calcolati sul valore nominale quindi su 100 ok se tu lo hai a comprare a 75 hai un rendimento potenziale molto maggiore se tu credi in beyond meet sicuramente hai un upside anche diciamo potenziale dai 75 quello stai pagando ai 100 qui potrebbe arrivare ok ora al momento beyond meet si trova sotto la barriera vedete quindi si trova a 83 quando la barriera è a 93 quindi in questa fase io il coupon comunque lo prendo perché il prodotto è un prodotto di tipo incondizionato ok se vedete un fixed quindi che cosa succede che io intanto ogni trimestre facciamo il caso che abbia delle minus varienze intanto io incasso l'1,9 per cento che l'8 per cento circa all'anno un po meno 76 all'anno intanto questo lo incasso beyond meet ha preso una bella botta perché il titolo è sceso tanto tanto è vero che è sceso sotto la barriera ok ora al nostro livello spartiacqua questo 93 che però non è così lontano dagli 83 che abbiamo oggi ok quindi secondo me questo qui è il classico caso di un prodotto che da un lato mi da un rendimento dell'1,9 per cento su base trimestrale dall'altro lato costa tanto poco cioè diciamo il prezzo è molto basso comprando la 75 e quindi andando a investire per esempio 7500 euro potrei ottenerne 10.000 e quindi un rendimento potenziale di questi 2500 in più oltre a 190 euro ogni trimestre quindi quasi 800 euro l'anno cosa vuol dire che da qua al 2024 2023 che è la data di valutazione finale o altri due anni è un altro 16 per cento da potermi giocare ok quindi a meno che beyond meet fallisca succeda qualcosa di gravissimo che il titolo quoti tra tre anni 60 dollari eccetera eccetera questo è un prodotto che secondo me dovrebbe recuperare poi ovviamente noi non possiamo prevedere il futuro però se crediamo in consumi più responsabili in un'economia più green sempre più persone hanno intolleranze alimentari e vanno verso una scelta più vegana sostenibile eccetera 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 io non sono vegano e faccio le grigliate però questi prodotti li ho provati a me piacciono quindi nella nello specifico secondo me questo è un'opportunità poi se beyond meet da oggi dovesse risalire tantissimo e tornare a 150 dollari per esempio per per azione sarebbe stato meglio comprare l'azione sì vero però avremmo fatto l'otto per cento per due anni fa 16 per cento da 75 cento e un altro circa 30 per cento avremmo fatto il 50 per cento e secondo me riccardo uno che fa sono dato a spanne però uno che fa il 50 per cento in due anni non dice beh se avessi comprato l'azione sarebbe andata meglio secondo me si prende il 50 per cento ringrazia e buonanotte la verità è che qui se beyond meet fa il 10 per cento il 15 per cento da quei prossimi due anni secondo me non è escluso tu fai un rendimento molto molto importante perché fai sempre comunque questo rendimento indicativo del 50 per cento quindi hai una leva tra virgolette se il titolo recupera un po quindi mi piace molto questo prodotto senti dato che siamo su questo prodotto anche per spiegare un po il meccanismo voglio ricordare come funziona un po il meccanismo di rimborso dei certificati che è abbastanza semplice nel senso che e poi è riportato anche nel kid quindi nel documento contenente le informazioni chiave qualora appunto non vi sia chiaro come funziona il il prodotto allora il prodotto prevede due scenari scenario 1 favorevole allora premesso tutto quello che ci ha detto enrico questa poi è una un esempio calato su su questo certificato però vale un po per tutti allora scenario 1 lo trovi nella prima pagina insomma prima paginetta enrico trovi un po sotto gli obiettivi come funziona come come viene calcolato il rimborso e esistono come diciamo due scenari intanto questo è un fixed cash collect quindi paga è uno strumento simile al precedente paga dei premi indipendentemente all'andamento del sottostante come dicevamo il prezzo è un po più resiliente all'andamento del prezzo del sottostante cioè tiene un po meglio cioè se eseguisse per dissequamente l'andamento del sottostante ad oggi il certificato dovrebbe quotare circa 50 53 euro mentre ne quota 73 74 questo ovviamente è dovuto al fatto che ha una vita mediamente lunga quindi dura più o meno due due anni ancora perché scade a dicembre del 2000 2000 23 pagherà delle cedole indipendentemente dall'andamento del sottostante quindi che cosa succede cosa succede quali sono gli scenari a scadenza di scenari sono due tendenzialmente uno scenario positivo il sottostante chiude al di sopra della barriera di quello che livello barriera indipendentemente dal dal valore che in questo momento il valore barriera è a 93 e 94 dollari qualsiasi prezzo al di sopra di 93 e 94 dollari permetterà al certificato di rimborsare cosa il nominale quindi 100 più pagare l'ultima cedola l'ultima cedola è una cedola condizionata tutte incondizionate solo l'ultima una cedola condizionata rispetto della barriera scenario 2 lo scenario sfavorevole ok se il sottostante alla scadenza dovesse chiudere al di sotto del livello barriera in quel caso il rimborso sarà dato dalla formula matematica e ricorda tutti in questo caso il capitale non sarà più protetto ok quindi tanto più la performance del sottostante sarà negativa tanto più il rimborso sarà basso la formula di calcolo quale ti terrà conto del valore del sottostante alla data di rilevazione finale diviso lo strike iniziale che 156,57 dollari per cento ok se voi sviluppate questa formula potete anche tendenzialmente fare una simulazione di quelle che possono essere gli scenari futuri e i futuri rimborsi tenete conto anche di una cosa avendo pagato ora quota 73 avendo pagato comunque delle cedole incondizionate per tutto l'arco del tempo questo potrebbe fare da una sorta di cuscinetto e ammortizzare le perdite in caso di andamento negativo del titolo quindi fino a scadenza ok quindi giusto per volevo spiegare il funzionamento del del meccanismo di rimborso a scadenza tu nel frattempo visto che stai facendo qualche calcolino ecco io lo faccio a spanne no facciamo finta allora adesso prendiamo il grafico di beyond myth no però giusto per farvi capire perché secondo me queste cose qua non si vedono spesso allora sostanzialmente questa è beyond myth il titolo è stato anche a 200 220 dollari è stata quotata recentemente quindi diciamo il titolo è un titolo che si muove no i minimi che sono stati toccati sono stati in area 52 ok intorno a marzo del 2020 piena pandemia scoppio di tutti i casini possibili e immaginabili quindi prima ondata di covid al momento siamo a 82 dollari per azione in un mercato che secondo me da qui in futuro crescerà però facciamo finta che ci sbagliamo e che il certificato vada e c'è che il sottostante vada a 50 ok quindi 50 dollari per azione ha letto che se ci credete anche se poi unicredit vi rimborsa poco perché vi rimborserà 32 euro secondo me prendete quei soldi che vi avanzano e potete metterli tranquillamente direttamente sul sottostante perché nessuno poi ti vieta sul rimborso di investirlo direttamente sull'azione diciamo in una fase successiva se tu hai un'aspettativa rialzista come per esempio io su quest'azione quindi 32 euro è il valore di rimborso ok bene questo nel caso malaugurato in cui il certificato in cui diciamo beyond andasse sotto un prezzo che non ha mai battuto nella sua storia ok perché se noi andiamo a vedere proprio neanche in fase di ipo ma neanche nel co col covid a per un giorno abbattuto 49 00 qui diciamo stiamo parlando di un caso non dico limite perché nulla diciamo può andare a zero un titolo che è quotato detto molto banalmente però diciamo se dovesse andare a 50 il unicredit ci darebbe 32 euro e qualche centesimo per singolo certificato ora in questo momento lo comprate a meno di 75 quindi comunque lo pagate lo acquistate bene giustamente riccardo diceva guarda che però ci sono i premi che vengono incassati su cento quindi incassate un euro e 80 sono 7 euro e 60 all'anno per due anni vado per approssimazione togliamo magari l'ultima cedola di quest'anno e quella in fondo che non viene data facciamo finta otto cedole sono altri 15 euro più o meno giusto che la spanne più o meno poi ovviamente i calcoli si possono fare più precisi però diciamo 76 per due adesso bisognerebbe vedere quando è la prossima data di osservazione ma se no tanto allora la prossima data c'era il 23 12 2021 sarebbe la quinta cedola dalla cui dalla quinta cedola perché fino a settembre ha pagato ovviamente avremmo 7 esatto 7 cedole per 1 e 90 1 2 3 4 5 6 7 7 cedole per 1 e 90 quindi ti ricordiamoci 32 quindi 7 per 1.9 uguale 13 3 più 32 euro fa 45 ok quindi diciamo che se dovesse succedere il caso non dico peggiore perché peggiore che l'azienda fallisca va da zero però diciamo che uno scenario molto negativo è uno scenario che vuol dire che il titolo perde dai prezzi attuali perde un ulteriore 50 perde un ulteriore 38 per cento è cioè voglio dire che facciamo finta che il titolo perdono ulteriore 38 per cento dai livelli attuali eccetera eccetera unicredit mi restituisce 45 30 euro io ne ho spesi 75 quindi ho avuto una discreta perdita diverso è il fatto se questo titolo invece si apprezza e va da qui a 95 più o meno che il 94 94 che il bel valore barriera diciamo esatto quindi se recupera un 15 per cento e noi lo compriamo a 75 quant'è che guadagniamo guadagniamo un sacco di soldi perché guadagniamo i 13 euro e trenta sicuramente più cento quindi ne investiamo 75 più o meno ok e ne incassiamo 113 e 30 giusto esatto quindi noi mettiamo 113 e 30 diviso 75 in realtà costa anche qualcosina meno guadagniamo il 51 per cento fronte di una performance del 14 99 quindi insomma c'è come struttura secondo me interessante in questo momento correggimi se sbaglio riccardo cioè soprattutto se tu credi che salirà quindi diciamo che noi quando è che ci andiamo a perdere ci andiamo a perdere nel momento in cui la stessa beyond meet dovesse andare da qui a due anni a 200 allora in quel caso avrebbe fatto una performance del 142 per cento ne avremmo ottenuto soltanto il 50 per cento ma saremmo contenti al netto che secondo me se il certificato inizia a quotare 90 92 95 98 o giù di lì possiamo venderlo quindi possiamo tranquillamente uscire dal prodotto entrerà su un'altra cosa che magari nel frattempo ha ritracciato eccetera eccetera quindi questi sono un po gli scenari assolutamente è un prodotto interessante è un prodotto diciamo sicuramente è un prodotto come caratteristiche abbastanza diciamo semplice da analizzare che può essere utilizzato anche come switch to recover e quindi vendo l'eventuale equity che ho in portafoglio negativo sullo stesso sottostante e mi compro magari un certificato di questi che mi permette in caso di lateralità o in caso comunque di continuo ribasso appunto del sottostante eventualmente di incassare sempre un pezzettino che sono che sono le cedoline no come come struttura sicuramente enrico mi piace e non so se hai altre chicche da farci vedere per questo guarda questo è giusto per concludere questa qui è la candela della trimestrale no che tra l'altro in parte già è stata riassorbita prima della trimestrale che è stata rilasciata il 10 di novembre quindi una settimana fa il titolo stava a 97 quindi secondo me non è da escludere che possa tornare a 97 in tempi abbastanza rapidi quindi questo è giusto per darvi una un'indicazione su come io vado a selezionare magari alcuni prodotti che che mi piacciono più di altri per quanto riguarda appunto invece gli altri prodotti in realtà non abbiamo cose eccezionali nel senso che al netto degli short su dax e dei long solo dollar sui quali siamo in perdita poi abbiamo preso degli altri prodotti che avevano all'interno biannit qui abbiamo snapchat e uber anche questo prodotto acquistato a 75 su questo siamo leggermente in profitto ma come vedi appunto l'impatto è modesto comprato a 75 perché anche in questo caso abbiamo voluto sfruttare proprio questo effetto moltiplicatore altro discorso questo sul food dove invece siamo andati a prendere un paniere di aziende che secondo me comunque nel medio termine dovrebbero performare andiamo a vedere quello che è il paniere di questo di questo prodotto che in questo momento quota 80 quindi anche questo è palesemente a sconto poi attenzione a sconto non è che a sconto perché unicredit ci vuol fare un regalo perché c'è un problema di worst of e questi certificati che non abbiamo trattato sono quelli siamo costruiti su un paniere se c'è anche solo uno dei titoli che fa particolarmente male ovviamente va a inficiare quello che è il valore di rimborso quindi nello specifico qui abbiamo un paniere dove c'è un titolo che ha fatto particolarmente male e lo vedete qua è evidente che il valore di rimborso diciamo il valore del certificato si adegua sul worst of quindi sia giusta sul valore di beyond me cosa c'è qua dentro coca cola danone nestle beyond me vanno tutti bene nel senso che coca cola allora anche qui il titolo può andare a zero ora la probabilità che coca cola vada a zero secondo me è bassa quanti di noi conoscono la coca cola da quando erano bambini e e poi danone nestle insomma qua l'unico titolo che c'è volatilità e beyond me nello specifico se andiamo a vedere le variazioni coca cola in profitto nestle ha guadagnato questi prodotti non destano particolare su preoccupazione e non andranno sotto barri poi o per carità può succedere di tutto però non dovrebbero andare sotto barriera danone ha perso qualcosina ma comunque tiene botta la verità è che c'è questo titolo che in questo momento in sofferenza che però potrebbe potrebbe recuperare quindi diciamo il paniere del food a me piace in generale poi secondo me sono sono prodotti sono aziende che possono far bene anche se il mercato dovesse ritracciare potrebbero essere un po più resilienti quindi sono prodotti in genere questo è un certificato che mi piace dico la verità mi piace perché costa di meno rispetto al valore di emissione il rischio di fatto è legato a beyond meet o poi per carità c'è poi uno può dipende quanto siete strutturati voi nel senso nella vostra operatività di trading per carità vi potete giare sul discorso di beyond meet cioè comprate questo certificato e poi magari vi shortate una piccola parte di azioni beyond meet per per coprirvi non lo so questo potete avete mille strategie che potete implementare secondo me poi ti dico in realtà riccardo a me l'azienda piace quindi io sono rialzista e e secondo me questa è un'opportunità di acquisto così come l'ho detto su facebook quando ha stornato quando c'è stato il down di whatsapp io le ho comprate c'è stato il down di tutte le piattaforme tempo fa ho comprato i sottostanti quando si verificano delle situazioni questo tipo secondo me bene approfittarne poi ovviamente il rischio il rischio c'è nel senso che insomma nessuno alla gara faccio un esempio io a tempo fa ho comprato anni fa un certificato sul aziende del turismo centro booking tripadvisor expedia e un'altra cosa ancora mi sembra amadeus che fa i biglietti per 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 i cambi e c'è un per 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 le compagnie aeree insomma gestisce tutta la parte t e prendeva bene andava bene eccetera eccetera ed è scaduto ma questo parlando di tanto tempo fa è scaduto tipo una alla fine del 2019 no quindi appena prima che scoppiasse poi la pandemia tu pensi se io fossi stato dentro quel quel certificato con lo scoppio della pandemia avrei preso mazzate da tutte le parti nel senso che booking è crollato cose crollate poi dopo si sono ripresi perché la verità è che noi i voli le vacanze le cose le compriamo su booking su expedia e continueremo a farlo anche tra cinque anni quindi ti scoppia una pandemia non lo puoi prevedere il certificato si scassa va ad arrivare a quotare 60 pace amen ma se tu credi in booking expedia eccetera eccetera perché li usi perché questa è la banalità e prima o poi booking eccetera eccetera torneranno dove devono stare e quindi secondo me la scelta dei sottostanti poi alla fine il vero tema più che la struttura ancora quindi è bene che mi piace esatto io però mi ricollego ancora questo poi magari andiamo verso i saluti finali insomma ricordato che la nostra oretta è volata abbiamo tante domande purtroppo non riusciamo la coperta sempre un po corta non riusciamo a rispondere a tutti però noi comuni credit siamo disponibili eventualmente enrico non so se vuoi lasciare dei vostri contatti dove siete contattabili o meno e però volevo volevo anche dire questo un po per per collegarmi a quello che hai detto tu è un po per ricollegarmi a quelle che sono le posizioni in perdita sui sui prodotti turbo open and allora enrico è il team ovviamente e il centro studi hanno aperto le posizioni sui turbo open and su euro dollaro e su dax che al momento sono in sofferenza detto che però l'idea effettivamente come dicevamo in precedenza sia sbagliata perché sul long term ovviamente può essere alcune idea corretta e dettata da quelle che sono le analisi fatte da enrico cioè ci può essere uno storno del dax e ci può essere una ripresa dell'euro dollaro tale per cui le posizioni entrambe le posizioni ritornerebbero eventualmente in profitto quello che però deve essere coerente in questi in queste posizioni deve esserci una coerenza da fare e considerare il una volta identificato quello che è il sottostante ed una volta identificata quella che la strategia identificare di conseguenza il corretto e il giusto prodotto da andare a inserire in portafoglio perché enrico ok e il team è inserito in in portafoglio dei prodotti turbo pen and ricordiamo che i prodotti turbo pen and hanno però un meccanismo di stop loss implicito quindi nel momento in cui viene toccata la barriera lo il prodotto cessa totalmente di esistere io direi appunto fatto questo quindi identificata l'idea identificato quelli che sono magari i livelli con gru di prezzo del sottostante che ci piace appunto andare su cui vogliamo andare a negoziare andare a scegliere di conseguenza quello che il prodotto con un congruo livello di strike quindi dar la possibilità al nostro sottostante di oscillare senza mandare il not out il prodotto stesso ok quindi ci vuole una coerenza tra idea di fondo analisi del sottostante coerenza coding certificato che noi andiamo a prendere ok quindi enrico ci sta facendo vedere ora perché appunto può essere valida l'idea appunto di enrico perché perché al momento è enrico ha messo in portafoglio un turbo su euro dollaro long con un livello strike a 1 11 e 93 quando l'euro dollaro al momento quota 1 13 e 25 quindi l'idea è che il dollaro si perda forza con ti voglio un certo target però ho una possibilità di oscillazione perché lo stop loss è posta 1 e 11 ecco volevo indicare solo questo sì allora diciamo io come strategia una strategia aggressiva quando vado a prendere i turbo i certificati turbo in generale cioè mi piace andare a prenderli in prossimità della barriera cioè se l'emittente mi dà la barriera e mi dà la leva io questa leva la voglio usare quindi ci metto meno soldi ok ma voglio usare una leva alta su questi invece faccio gli switch nel senso che se poi ho un idea di mantenere la posizione magari appena prima di essere colpito perché questo lo dico a beneficio di chi ci ascolta perché secondo me è utile fare anche un po di education se usciamo prima di essere colpiti sul livello di stop loss è un po meglio perché qualcosa salviamo possiamo andare sulla sul diciamo sullo strike un po più in basso quindi al posto che andare a prendere il diciamo un prodotto con strike 11 98 posso andare a prendere un prodotto con strike 1 e 10 per intenderci a quel punto avrò meno leva quindi su questi secondo me ha senso fare gli switch perché sono prodotti da trading io cerco di usare prodotti con tanta leva perché se me la danno la devo usare se no non ha senso prendere un prodotto a leva secondo me poi perdi il cento per cento del capitale vero no se prendi la barriera è altrettanto vero ci puoi mettere meno soldi c'è la leva la usi e compri di meno però se va dal lato giusto guadagni tanto se sbagli e perdi si perde il cento per cento di quello che ci hai voluto mettere quindi come se fosse un'opzione se tu investi per 500 euro per dire o per mille euro tu non è che perdi più di mille euro quindi questi certificati sono pensati secondo me anche per colpire di tanto in tanto le barriere cioè può esistere lo stop loss nel trading i rapporti rischio rendimento che puoi avere su questi prodotti sono molto favorevoli proprio perché ogni tanto viene colpita la barriera se siete sempre davanti al computer riuscite magari a evitare ea liquidare salvando qualcosina parte che una volta che arriva in prossimità della barriera stiamo parlando di centesimi sul valore del certificato però insomma meglio che niente riuscite a recuperare qualcosa quindi questo è come opero io su su questo tipo di strumenti certo guarda enrico allora a me piaceva fondamentalmente identificare dei prodotti ovviamente coerenza tra time frame e della posizione e livelli di stop loss perché magari non tutti sono esperti in un'ottica di strategia veloce come magari lo siete voi quindi identificavo il rapporto maturity che ci sia in mente e stop loss e lunghezza da stop loss per evitare ovviamente riposizionamenti su su livelli di strike successivi però quello che dicevi tu in termini leva è corretto e coerente ovviamente con una strategia dinamica che sicuramente diciamo è più è più affine magari a un expertise pluriannale diciamola così insomma allora senti io direi che abbiamo un po trattato tutti i temi ricordo a tutti che il portafoglio di enrico e del team è visibile e consultabile quindi qualora abbiate delle dubbi delle curiosità circa il portafoglio e le movimentazioni potrete tranquillamente accedere appunto al portafoglio di investire punto biz enrico io non so come ringraziarti per i tuoi spunti per le tue indicazioni e a questo punto io saluterei tutti insomma e rimanderei al prossimo appuntamento di formazione con la certifichetta academy e enrico insomma ancora grazie e non so se vuoi lasciare magari dei tuoi contatti o il riferimento al vostro sito dove poter vedere eventualmente sì e quant'altro esatto grazie innanzitutto per per l'invito al nostro sito è investire punto biz e ci potete raggiungere anche sulla mail info che ho c'era investire punto biz già che ci siamo mi hai fai questo assist abbiamo recentemente acquisito borsa e finanza che è un dominio storico insomma in ambito finanziario la cosa interessante che qui trattiamo più temi da investimento quindi per esempio i vostri prossimi benchmark o i vostri prossimi prodotti con un orizzonte temporale abbastanza lungo probabilmente li tratteremo su questo dominio diciamo con un'ottica più da investitore che da speculatore quindi vi esorto ad andare a vedere sia borse finanza punto it che investire punto biz che invece si occupa più di attività di trading più mordi e fuggi benissimo e allora lasciate i riferimenti dei del vostro sito indicate fondamentalmente dove poter trovare il vostro portafoglio siamo aggiunti veramente al termine e allora enrico grazie a te grazie al team per le tue indicazioni per le vostre indicazioni sul portafoglio e grazie ancora a tutti per aver partecipato al webinar arrivederci al prossimo appuntamento di formazione grazie a voi